Le lamiere dell'auto storica di Velte si sono trasformate in una gabbia mortale per un poliziotto della questura di Padova. Leonardo Braido, 41enne, ispettore della squadra mobile di Padova, è rimasto vittima questa mattina in un drammatico incidente lungo la bretella che collega Abano Terme alla taggenziale di Padova. Lo schianto frontale avvenuto all'altezza del comune di Selvazzano ha coinvolto la Fiat 500 Abarth storica guidata dal poliziotto e un'altra vettura. Le condizioni di Braido sono parse, sin da subito disperate. Quando è arrivato in ospedale il suo quadro clinico era critico ed è deceduto poco dopo. Come ogni mattina l'ispettore che faceva parte della sezione antidroga della squadra mobile era andato al lavoro. Verso le 11 ha detto ai colleghi di non sentirsi bene e ha lasciato il servizio. L'incidente è avvenuto sulla strada di casa verso Teolo dove abitava. La dinamica dello schianto frontale è al vaglio della polizia locale di Selvazzano, illesa invece la ragazza alla guida del SUV che si è scontrato contro l'auto del poliziotto. Perdiamo un fratello e un poliziotto bravissimo, un ragazzo che aveva nel sangue il lavoro che aveva scelto. Queste le parole commosse della questura di Padova. Sono stati proprio gli agenti e i colleghi della squadra mobile ad avvisare la famiglia. Il padre di Leonardo, Maurizio, era stato anche lui un agente di polizia e da qualche tempo era in pensione. Braido, quando si era ruolato, aveva scelto di fare la volante a Palermo per essere in prima linea. Poi ritorno a Padova, 13 anni fa, con la squadra mobile e numerosi gli arresti fatti e le operazioni antidroga a cui ha partecipato. Grazie. 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 Grazie.